Ecco, noi conosciamo David Grossman per tantissimi romanzi meravigliosi, vedi alla voce amore, che tu sia per me il coltello, a un cerbiatto soviglia al mio amore, ma oggi è qui per parlare di un libro caduto fuori dal tempo, molto intimo, non so quanti di voi l'abbiano già letto, ma è un libro che appunto si prende le origini dalla morte del figlio, è un libro che credo sia molto difficile da leggere, ma credo che sia ancora più difficile da scrivere. È un libro molto bello, ma io vi invito appunto a leggerlo. A parlare con David Grossman, Alessandro Zaccuri e gli attori che leggeranno alcuni pezzi del libro, Irene Zagrebeschi e Mariano Pirrello. A tradurre David Grossman, il nostro amato interprete Paolo Maria Noseda. C'è una strana e magnifica sintonia tra David Grossman, i suoi libri e i lettori italiani. Una sintonia un po' irripetibile, è il paese, l'Italia, dove i libri di Grossman sono più amati, apprezzati e dove c'è un pubblico che si sintonizza immediatamente sulla voce di questo scrittore. Come tanti anch'io ho provato a darmi una risposta per questo fatto e credo che sia legato a una duplice qualità abbastanza straordinaria della persona di David Grossman, che è il suo essere un grande scrittore, questo gli è universalmente riconosciuto, ed essere una persona di straordinaria umanità. Non so quanti voi abbiano già avuto occasione di vederlo in occasioni come questa, l'avrete visto magari in televisione, ma gli incontri con David non si dimenticano, quindi noi cercheremo, anzi siamo sicuri che avremo grazie a lui una serata indimenticabile. Non si dimenticano anche perché il libro di questa sera è, modesto parere, poi magari mi sbaglio, uno tra i suoi libri dei più importanti, dei basilari, quando si fanno i giochi, di scegliere due o tre libri per un autore, d'ora in poi questo, quando si farà la classifica, ecco, di David Grossman, caduto fuori dal tempo ci sarà sempre, perché è un libro che nasce da una parola, e questo è interessante perché in tanta simpatia tra l'Italia e i suoi libri, è una parola che in realtà in italiano non esiste, ed è una parola terribile che forse noi italiani evitiamo proprio per il concetto che evoca, l'orfano è chi ha perduto i genitori, ma come si chiama chi ha perduto il figlio, o i figli, o la figlia. L'ebraico ha questa parola, ed è esattamente a partire da questa parola, di cui magari adesso David ci parlerà, che in questo libro accade qualcosa di miracoloso, ma com'è miracolosa l'umanità nel suo compimento, che il dolore di uno, e all'inizio del libro, poi avremo modo anche di ascoltarlo, è il dolore di uno, perfino all'interno di una coppia di persone che si vogliono bene, di un marito e di una moglie, ma è il dolore di uno, è il dolore non comunicabile, diventa non solo il dolore di due, ma il dolore di tre, di quattro, diventa un dolore condiviso, universale, e che a quel punto si può dire. Questo libro ci regala una parola, anche se poi la traduttrice italiana, Alessandra Sciomoni, bravissima di David, quella parola non l'ha potuta trovare, perché noi non ce l'abbiamo in italiano, però ci restituisce in una maniera indelebile questo sentimento, che c'è una perdita, ma questa perdita può essere condivisa, può diventare universale, che quella stessa lingua che ha portato la ferita del distacco può portare una qualche forma di risanamento, una qualche forma di risarcimento, forse addirittura. Io vorrei che David iniziasse a raccontarci di questa parola e più che altro iniziasse un po' a dirci quella che è la vera trama di questo libro così particolare, sulla forma letteraria magari parleremo più avanti, questo libro in cui il dolore di uno diventa il dolore di tutti. Shalom, good evening, Erev Tov, and thank you, Alessandro. The book starts when a couple, a husband and a wife, they are sitting quietly and eating dinner. They do not speak with each other, but there is warmth between them. You feel they love each other. And then suddenly the man rises and he stands, he pushes away the cattling and the dishes and he says, I must go. And the woman asks, where? and he says, I don't know. I must go. I have to go. Will you come with me? He asks his wife. And she says, no, I will not come with you. And he says, please, I need you there. I want you to be there. And she says, but what do you mean by there? What is this there? Is it the place that it happened? And gradually we understand that they lost their son. And he says, no, I don't know where it is. I just have to go. And this is how the book starts and later we shall hear Mario and Irene reading from it. and it is, I think even this little shena, scena between the man and the wife, it shows how much grief is isolating. Maybe it's one of the most isolating human situation because even if a father and a mother lost a child, they did not, they have not lost him in the same way. Each of them lost him in another way, in a different way. Shalom. Shalom, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie per essere qui. Grazie a Alessandro. Sì, è vero, il libro inizia proprio con una scena, con una coppia, un uomo e una donna che siedono tranquillamente a cena, non si parlano, ma si può percepire distintamente il calore e il sentimento dell'amore che pervade appunto questa scena e improvvisamente l'uomo si alza, non riesce più a stare fermo, spinge via tutto, piatti, bicchieri, tutto quanto e dice alla moglie devo andarmene e lei chiede ma dove? E lui risponde non so, ma devo, devo andare via. ma dove richiede lei? Ma come? Non vuoi venire con me? risponde lui e lei dice no, perché devo venire con te? E lui le chiede per favore vieni con me, vieni con me laggiù e lei gli richiede laggiù dove, che posto è questo laggiù e piano piano gradualmente si capisce che questa coppia ha perso un figlio. e questo laggiù dove l'uomo andrà lo scoprirete quando appunto Mario e Irene i due attori leggeranno l'incipit del libro e anche se questa è una scena minuta è comunque una scena nell'ambito della quale si mostra chiaramente che quest'uomo e sua moglie sono stati colpiti da una delle cose più terribili che possa colpire un essere umano, il lutto perché il lutto è forse delle sentimenti o delle situazioni che può colpire i due esseri umani la più tremenda perché è quella che ti isola più di qualsiasi altra cosa da qualunque altro essere umano e infatti nonostante loro siano un padre e una madre soffrano della stessa perdita ne soffrono in modo diverso non nello stesso modo. the word that you ask for is in Hebrew we say shakul I don't know if it sounds to you it's a biblical word and it means a parent who has lost a child shakul it's by the way a very common word in Israel due to the circumstances there and only when this book started to be translated to other languages only then I learned that in most languages there is no word no specific word for that and it is so interesting well in everywhere people experience something like that so why isn't there a word for it is it is it too awful I just don't know I mean I have no explanation and the word that I was asking to explain is a Hebrew word of the Hebrew word shakul it's a word that maybe is in your ears because it's a biblical word and it's the word that defines the condition of that that who has lost a child and it's a word unfortunately very common in Israel even in our days in our circumstances in which we are and it it's only when my book started that I realized that in many languages in which this book is not there this word there is specific for the genitore that has lost a child even it's an experience that is an experience that is in the world for because in some places it is too terrible and so it non is stata cognata questo è un libro universale non soltanto per per i temi che affronta che probabilmente sono i temi per cui esiste la letteratura il fatto che noi abbiamo bisogno di raccontarci delle storie nella convinzione che la storia che viviamo in realtà non finisca non sia dispersa con noi ma è anche universale perché a differenza di molti altri libri della stragrande maggioranza dei libri di David Grossman è un libro ambientato in un luogo fuori dalla storia un mondo che assomiglia molto al mondo moderno ma nel quale le guerre si combattono ancora con le spade per esempio ed è proprio per questo un libro che dà tantissima importanza ai luoghi c'è il qui che è la terra dei vivi questa cucina da cui parte questo luogo domestico da cui parte la storia c'è il laggiù che è un concetto molto riconoscibile in realtà della cultura ebraica della cultura biblica lo sceole il luogo in cui i morti sono separati dai vivi e un elemento narrativo fondamentale di questa storia non rivelo nulla non vi tolgo nessuna sorpresa ed emozione nella lettura però a un certo punto si incontra un muro e a me ha molto colpito questo muro non solo per quello che evoca nella nostra così memoria un po' forse turistica anche il muro del pianto eccetera ma perché questo muro c'è nella divina commedia il muro dell'inferno della città di Dite Giorgio Caproni riprendendo queste immagini di Dante il muro della terra diceva è il limite contro il quale alla fine la ragione si sconta caduto fuori dal tempo è un libro sul limite sul limite di quello che può essere pensato patito e raccontato quindi vorrei chiedere a Grossman di dirci come questa spazialità strana a volte anche un pochino disturbante del libro come mai è così importante e come mai contro un muro prima o poi la testa la sbattiamo insomma quando quando quoted from Dante I thought also that usually our world gets to the place where our language is we cannot really imagine a world that we cannot describe in words I have a young granddaughter my first granddaughter was born four months ago which is very recommended I tell you it's wonderful and I all the time I think what does she think she does not have words how does she experience life I mean how if she does not have words to root it how does she feel and I'm sure she feels but we we do not know we forgot this stage beh quando appunto hai citato Dante mi è venuto in mente anche una cosa che è una cosa che di solito penso del mondo è che uno trova un posto dove c'è una lingua e quindi se tu non hai non riesci ad immaginare un luogo nel mondo non puoi non riesci a trovare neanche le parole per descriverlo e questo mi è anche venuto in mente pensando alla mia nipotina sono diventato nonno quattro mesi fa per la prima volta di una nipotina ed è un'esperienza che peraltro consiglio a tutti spesso quando la guardo ecco mi chiedo ma che cosa sta è un'esperienza is the place that we can imagine but we in the end we do not have words to describe it you know that my family suffered a catastrophe, we lost our son Uri six years ago and three months and then for the first time I realized how much there are no words to describe what we feel or the thoughts of where if there is some life after this life and to formulate all the nuances of feelings and sensations that one feels at such a situation no words and I remember my family got a lot of letters of condolences and many of them were written by writers and almost all of them they wrote as if one voice told them what to write and they wrote we are speechless or they said there are no words to describe something like that and these people are really the masters of of words of formulations and they also felt that this is the wall this is the end of our ability to say something and because of this wall because of the feeling of crushing my head against this wall I wrote this book well E questo appunto ha la base di tutto quel muro e anche quell'altrove, quel posto là che si immagina quando si arriva a una situazione dove non ci sono parole possibili per descrivere questa situazione. Sapete tutti che io e la mia famiglia abbiamo sofferto la grande tragedia di avere perso mio figlio Uri sei anni e tre mesi fa. Per la prima volta io mi sono reso conto di quanto mi mancavano e mi mancassero e ci mancassero a tutte le parole, di quanto nonostante appunto uno possa pensare più o meno all'esistenza di un'altra vita oltre questa vita, davanti a una situazione di questo genere davvero ci sono delle sensazioni profonde e tutta una serie di piccole nuance che accompagnano queste sensazioni che però non possono essere accompagnate dalle parole. Quando ciò successe noi ricevemo tantissime lettere, tantissimi messaggi di condoglianze, parecchi da scrittori, da grandi scrittori ed è come se quasi un'unica voce avesse detto, avesse quasi detto a questi scrittori che cosa scrivere e quasi tutti hanno scritto siamo senza parole, non ci sono parole per descrivere quello che è accaduto. Eppure questi messaggi, queste lettere venivano da grandi maestri, maestri della parola, maestri della formulazione del pensiero. E allora io mi sono proprio reso conto che quello era il muro, quello è quel laggiù, quell'altrove dove non c'è più niente da dire, non si può più dire nulla. Ed è stato proprio questo sentimento di essersi fracassato il capo contro questo muro che mi ha spinto a scrivere questo libro. E perché noi non abbiamo parole, siamo dovuti a usare clichés, fracassati che sono formato da altri o per un genere consenso. E noi le diciamo e le persone ci dicono questi clichés, ma penso che quando usiamo un cliché in order di descrivere qualcosa di molto intime e autentico, e noi ci sentiamo anche insultati, umiliati, ci sentiamo che qualcuno ci mette una bianca che non ci suite a tutto. Quando non ci sono più queste parole, siamo come condannati ad usare del cliché, delle espressioni che altri hanno cognato per noi e che sono fonte di quasi un consenso generale, le usiamo anche noi peraltro, e le persone a loro volta le dicono a noi. Ma ecco, io trovo che quando appunto ci si trovi costretti ad usare questi cliché per delle cose così intime, per delle cose così profonde, è come se noi fossimo violentati, insultati, è come se questa situazione appunto fosse una situazione di violenza. E per me, scrivere questo libro mi è stato un'azienda, in un modo semplice, un'aziendaying toglie a cui sento le mie parole a queste situazioni. I remember that I thought that if I was unfortunate enough to be sent to this place, at least I will map it with my own words I will give it my own words so there will not be this total estrangement between me and the situation, there will not be this total detachment at least I will try to send my words there because you know, there is this feeling when we are confronted with death and I think every one of us in his or her life has experienced the death of a beloved person when we are confronted with death we we feel that this wall is totally hermetic no matter what we do we cannot even crack a small crack in it and then I think I found out that the only maybe maybe the only way at least for me to go one more centimeter into this monolitic wall is the way of art is through writing or through music or whatever art that is possible and for me scrivere this book simply it was a tentative to find my words that could describe this situation because I remember I remember of having thought this if I were so fortunate to have to go in that place in that place in that place at least I want to do it with my words at least I want to take away from that strange incredible and dolorous that created between me and this situation if I could create it and at least riuscire to get with my words in this laggiù and for this I have once I found in front of this situation this sensation that spero capiate tutti perché purtroppo tutti noi abbiamo dovuto trovarci di fronte nella vita al decesso di una persona amata ecco quando succede una cosa di questo genere ti trovi proprio di fronte devi fronteggiare una situazione tale per cui è come se ti trovassi di fronte a un muro ermeticamente chiuso solido che non si fa scalfire neanche dalla più piccola crepa e a questo punto mi sono reso conto che l'unico modo per me era per riuscire in un modo o nell'altro a infliggere questa crepa dentro questo monolite era l'arte rivolgermi all'arte alla scrittura alla musica insomma tutte le altre forme di arte io a questo punto chiederei a Irene e Mario di dare voce a queste parole per capire chi non avesse ancora iniziato o letto il libro stiamo parlando di questo insomma scriva delle cronache cittadine mentre sono seduti a cena l'uomo all'improvviso muta espressione con un gesto brusco spinge via il piatto che ha davanti facendo tintinnare forchette e coltelli poi si alza sembra non sappia dove si trova la donna sussulta sulla sedia lo sguardo dell'uomo le vaga intorno senza posarsi su nulla e lei già una volta è stata colpita dalla tragedia l'avverte subito eccola mi tocca di nuovo le sue dita gelide sulle mie labbra ma che succede sussurra con lo sguardo e l'uomo la osserva stupito devo andare dove? da lui dove? da lui laggiù dove è successo? no no laggiù cos'è laggiù? non lo so mi fai paura per vederlo ancora un istante ma cosa vedrai? cosa è rimasto da vedere? forse laggiù potrò vedere persino parlare con lui parlare? scriva delle cronache cittadine ora entrambi si riscuotono si risvegliano la tua la tua voce è tornata anche la tua mi è mancata tanto la tua voce pensavo che noi che ormai non più che della mia ho sentito la mancanza della tua voce ma cos'è laggiù? dimmi non esiste un posto simile non c'è un laggiù se ci si va un laggiù c'è ma non si torna nessuno è mai tornato perché ci sono andati solo i morti e tu come ci andrai? io ci andrò da vivo e non tornerai? forse lui si aspetta che andiamo a trovarlo no ormai da cinque anni lui è solo no e no forse non capisce come abbiamo potuto rinunciare a lui così non appena ci hanno avvisato guardami guardami negli occhi che cosa stai facendo? sono io mi vedi? siamo noi noi due questa è la nostra casa la cucina vieni siediti ti verso un po' di brodo com'è bella è così bella è bella la cucina in questo momento mentre tu versi il brodo è caldo qui è accogliente è il vapore appanna il vetro della finestra freddo scriva delle cronache cittadine forse a causa dei lunghi anni di silenzio la voce roca dell'uomo si affievolisce in un sussurro non distoglie gli occhi dalla donna la guarda talmente fisso che le mani di lei tremano e più belle di tutto sono le tue braccia tonde morbide la vita è qui cara per un istante l'ho dimenticato la vita è nel luogo dove tu versi il brodo sotto il cono di luce hai fatto bene a ricordarlo noi siamo qui e lui è laggiù e tra qui e là è il confine del mondo quasi dimenticavo noi siamo qui e lui ma non è più possibile non è possibile guardami no non con questo sguardo spento fermati torna da me torna da noi è così facile rinnegarci rinnegare il cono di luce queste braccia morbide il pensiero che siamo tornati a vivere che il tempo malgrado tutto ponga bende sottili no non è più possibile così non è più possibile che noi che il sole che il sole gli orologi i negozi la luna le coppie che gli alberi nei viali rinverdiscano che il sangue nelle vene la primavera l'autunno la gente semplicemente che ci sia banalità nel mondo che i figli degli altri la loro luce il loro calore attento dici cose sono così sottili le ragnatele venero degli uomini di notte portavano una notizia venivano da lontano muti severi e forse leccavano furtivi quella notizia la assaporavano con stupore infantile comprendendo che si può tenere in bocca la morte come una caramella al veleno dalla quale si è miracolosamente immuni aprimo la porta questa noi eravamo qui tu ed io spalla contro spalla e loro sulla soglia e noi davanti a loro e loro compassionevoli sommessi misurati ci soffiarono addosso quel vento di morte c'era un silenzio terribile intorno crepitava un fuoco freddo dissi lo sapevo questa notte sareste venuti pensai dunque vieni caos da qualche parte da lontano ti ho sentita non temete dicesti quando lui nacque non gridai e nemmeno ora griderò la nostra vita precedente continua a germogliare dentro di noi ancora per qualche istante le parole i gesti le espressioni poi per un momento sprofondammo entrambi tacemmo con le stesse parole non piangemmo lui in quel momento piangemmo la melodia della vita precedente la semplicità meravigliosa la leggerezza i visi lisci senza rughe eppure promettemmo l'uno all'altra giurammo l'uno all'altra di essere per piangerlo per sentire la sua mancanza e di vivere e cosa è successo ora cosa è successo all'improvviso che ti porta a strappare tutto dopo quella notte venne uno straniero mi strinse le spalle e disse salva ciò che rimane lotta cerca di sanare guardala negli occhi fissala negli occhi non desistere non tornare laggiù a quei giorni non tornare non volgere lo sguardo indietro in quell'oscurità vidi davanti a me è un occhio colmo di lacrime è uno folle un occhio umano spento è uno d'animale di un animale già per metà nelle fauci del predatore coperto di sangue dissennato che mi sbirciava dal tuo occhio la terra si spalancò ci inghiotti e ci vomitò non tornare laggiù non tornare non allontanarti nemmeno di un passo dal cono di luce non potei allora non usai guardarti nell'occhio in quel tuo occhio folle in quel tuo vuoto non ti vedevo non vedevo nulla non con l'occhio umano né con quello animale la radice della mia anima era stata strappata faceva molto freddo e anche ora fa freddo viene a dormire è tardi cinque anni abbiamo taciuto quella notte tu sei a mutualità per prima io dopo di te a te stava bene il silenzio a me prendeva alla gola una dopo l'altra si spensero le parole e fummo come una casa nella quale a poco a poco si spengono tutte le luci finché cade una quiete fosca e in essa ti ritrovai e ritrovai lui un manto di oscurità avvolgevano i tre in esso ci avviluppammo insieme a lui e muti eravamo come lui tre embrioni concepiti dalla tragedia e insieme nascemmo sull'altra riva senza parole senza colori e imparammo a vivere il negativo della vita vedi di parola in parola qualcosa di segreto tra di noi si assottiglia si dissolve come un sogno illuminato da una torcia c'era una sorta di miracolo nel nostro silenzio un qualche mistero nella quiete nella quale fummo inghiottiti insieme a lui muti muti eravamo come lui parlavamo la sua lingua perché che hanno a che fare le parole che hanno a che fare che ha a che fare la gran cassa delle parole con la sua morte scriva delle cronache cittadine nel silenzio che cade dopo il grido della donna l'uomo arretra fino a toccare la parete con la schiena con movimenti lenti come nel sonno allarga le braccia e cammina lungo la parete fa il giro della piccola cucina intorno alla donna raccontami raccontami di noi quella notte avverto un qualche segreto tu strappi le bende per poter bere il tuo stesso sangue provvista per il cammino verso laggiù quella notte raccontami di noi quella notte mi giri intorno come un predatore incombi su di me come un incubo quella notte quella notte vuoi sentire di quella notte su queste sedie eravamo seduti tu lì io qui e tu fumavi ricordo il tuo viso che appariva e scompariva nel fumo e ogni volta era un po' meno meno te meno uomo in silenzio aspettavamo il mattino il mattino non arrivava il sangue non scorreva mi alzai ti avvolci in una coperta tu mi stringesti la mano mi guardasti negli occhi l'uomo e la donna che eravamo annuirono annuirono e si lasciarono un no cupo e gelido spirò dalle pareti mi avviluppò il corpo mi chiuse e sprangò l'utero pensai sicillano la casa che un tempo sono stata io parla racconta ancora cosa dicemmo chi parlò per primo c'era un gran silenzio vero sento ancora il nostro respiro le tue mani che si torcevano ma all'infuori di questo è tutto cancellato un fuoco freddo e silenzioso consumava tutto intorno a noi il mondo esteriore si contraeva sospirava rimpiccioliva fino a diventare un punto minuscolo nero maligno pensai dobbiamo fuggire da qui sapevo non c'era dove il momento in cui avvenne in cui divenne realtà in un attimo fummo catapultati in una terra d'esilio arrivarono di notte bussarono alla porta dissero allora tal dei tali nel luogo tal dei tali vostro figlio così e così tesserono veloci una fitta rete ora minuto e luogo precisi e nella rete c'era un buco capisci in quella fitta rete c'era quanto pare un buco e nostro figlio era caduto nell'abisso scriva delle cronache cittadine mentre lei dice queste cose lui smette di girarle intorno lei lo guarda con occhi spenti lui le sta davanti smarrito con le braccia abbandonate come appena colpito da una freccia scoccata molto tempo prima tornerò mai a vederti com'eri e non come sei senza di lui io riesco a ricordarti com'eri il tuo sorriso ingenuo e ottimista e ricordo come ero io ma non riesco a ricordare lui strano lui senza il suo non essere non riesco a ricordarlo e più passa il tempo più mi sembra che già nel suo essere fosse ravvisabile il suo non essere sai a volte sento la mancanza di quell'occhio dissennato coperto di sangue a volte credo in lui più di quanto creda in me stessa ed è a causa di questo tuo occhio folle che affido a te la mia anima e ti faccio una domanda che io stesso non capisco verrai con me laggiù da lui quella notte pensai ora ci separeremo non potremo continuare a vivere insieme quando ti dirò sì tu abbracerai il no il suo vuoto abbracerai come faremo ad avvicinarci l'una all'altra pensai quella notte come ci ecciteremo quando ti bacerò le schegge di vetro del suo nome nella tua bocca taglieranno la mia lingua come potrai guardarmi negli occhi quando lui sarà lì celato come un feto nell'oscurità della pupilla ogni sguardo ogni contatto pungeranno come un aculeo come faremo ad amare pensai quella notte come faremo ad amare e lui con così grande amore fu concepito il momento in cui accadde è accaduto guardami dimmi è accaduto e si levò involute e salì e traboccò un pozzo senza fine e io già sapevo fin tanto che avrò respiro attingerò e berrò e sanguinerò il buio di quel momento il lutto condanna il vivo a una solitudine ineffabile come la malattia che avviluppa il sofferente ma in questa solitudine in cui così come l'anima si separa dal corpo io mi strappo quasi da me stesso non sono più solo non sono più solo da allora e non sono uno soltanto laggiù e mai più sarò uno soltanto in questa solitudine lo tocco nell'intimo del suo abisso come non ho mai toccato nessun altro al mondo e lui anche lui tocca a me da laggiù come nessuno mi ha mai toccato se ci fosse un posto simile laggiù ma non c'è lo sai se però ci fosse qualcuno ci sarebbe già andato uno fra tutti si sarebbe alzato e sarebbe partito fino a dove ti spingerai e come saprai tornare e se non tornerai e se anche lo troverai ma non lo troverai perché non c'è un laggiù ma se lo troverai non tornerai più non ti permetteranno di tornare e se tornerai come tornerai forse talmente cambiato da sembrare che tu non sia tornato e che ne sarà di me come farò se non tornerai o se tornerai talmente cambiato da non essere tornato scriva delle cronache cittadine la donna si alza si stringe all'uomo le sue mani corrono sul corpo di lui la bocca cerca il suo viso gli occhi le labbra dal punto in cui mi trovo nell'ombra fuori dalla finestra sembra che gli si butti addosso come una coperta sul fuoco quella notte pensai non ci separeremo più ormai anche se lo volessimo come potremmo chi lo manterrà in vita chi lo abbraccerà se non noi due avvolgendo con i nostri corpi la sua vuota interezza vieni che c'è di più semplice senza ponderare porsi domande o pensare sua madre e suo padre si alzano e vanno da lui negli occhi di chi guarderemo per vederlo raggomitolato nel nero della pupilla presente eppure assente nella mano di chi intreceremo le dita per tesserlo un istante nella nostra carne e non andare gli occhi un barlume dei suoi occhi come è possibile come potrei non tentare e cosa gli dirai povero pazzo cosa dirai che qualche ora dopo aver appreso la notizia si risvegliò in te la fame che il tuo corpo e il mio si aggrapparono come due zecche incollandosi l'uno all'altro e costringendoci a vivere se saremo con lui ancora un istante forse anche lui sarà per un altro istante uno sguardo un respiro e dopo che ne sarà di lui e che ne sarà di noi a noi si spezzerà il cuore e forse moriremo come lui in un momento o rimaremo sospesi davanti a lui in bilico tra i morti e i vivi ma questo lo conosciamo da cinque anni il patibolo della nostalgia l'odore che emana il tuo corpo quando all'improvviso il dolore si scaglia su di te ti piomba addosso l'odore amaro nel quale ritrovo sempre il suo i suoi odori dolce piccante acre i suoi capelli lavati la sua carne pulita le semplici spezie del corpo ricordi come sudava dopo una partita accolorato e entusiasta aveva odori per ogni stagione quello della terra delle gite d'autunno quello della pioggia che esalava dal gilet di lana l'odore del sudore della fronte quando in primavera lavoravate insieme nei campi vapore di uomini esausti riempiva tutta la casa ma più di tutto amavo l'estate gli aromi delle pesche e delle prugne il cui succo gli scorreva sulle guance e quando tornava da un faloco agli amici notte e fumo salivano dal suo fiato o quando tornava dalla spiaggia profumo di salsedine nei suoi capelli e sulla sua pelle e l'odore della copertina di neonato e dei pannolini quando succhiava il mio latte sembra che solo un attimo dopo le lenzuola del ragazzo innamorato talvolta quando siamo quando siamo insieme la tua angoscia si aggrappa alla mia il mio dolore si riversa nel tuo sangue e all'improfiso dentro di noi sale il vapore del suo corpo intero intatto e per un attimo possiamo immaginare e qui in capo al mondo andrei con te lo sai ma tu non vai da lui tu vai altrove e laggiù non verrò non posso non verrò è più facile andare che restare da cinque anni mi mordo le mani per non andare non laggiù non c'è non c'è un laggiù se vi andremo ci sarà un laggiù avete capito di cosa stiamo parlando stiamo parlando di un racconto ridotto all'osso eppure nel quale c'è dentro tantissima vita questa scena dove apparentemente non accade nulla perché tutto è già accaduto io vorrei adesso che David Grossman ci raccontasse qualcosa non del perché questo libro ha preso questa forma i libri prendono la forma che vogliono nell'esperienza di uno scrittore ma proprio di 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 questa non so come chiamarla apparizione che ha avuto questa questa idea questa possibilità di raccontare quello che non può essere raccontato in un modo che apparentemente può sembrare tanto diverso da quello degli altri suoi libri che conosciamo lo stesso a un cerbiato somiglia al mio amore è un libro con lunghe parti di realismo minuzioso nella vita dello Stato di Israele negli ultimi anni gli ultimi decenni però se vi ricordate anche lì ci sono quelle 60 pagine misteriose d'apertura in cui i personaggi sono ridotti alla loro voce proprio come accade qui questo è un libro che porta la prosa al confine della poesia che utilizza come avete capito gli strumenti teatrali c'è questa voce questa specie di voce fuori delle quinte dello scriba delle cronache cittadine che non è il vero autore della storia questo per incuriosirvi lo dico ma non dico nient'altro quindi vorrei che Davide ci raccontasse qualcosa di questa forma così particolare così sorprendente eppure almeno per quanto riguarda l'esperienza del mio direttore così coerente con tutta la sua opera che conoscevamo già quando ho iniziato a scrivere un libro ogni libro ho questo voglio di scrivere in una forma che non so come scrivere e del ritmo. Exactamente come la situazione in cui ero quando ero scritto, era una situazione in cui tutte le regole hanno scoperto. Tutte le ordine di cose hanno scoperto. Un poco Xperlato stato trovato, questo soggetto è un poesci�, un po' del libro è un poesci�, un po' di radio, un po' di prose. Quindi può essere molti cose. Io penso che se guardano questo processo che mi ha chieditato mi, it didn't allow me even to think I needed the movement I needed to be all the time on the move in front of what I guess tried to paralyze me to fossilize me and the writing of this book allowed me not to be not to be passive and not to be crushed by the event and not to be a victim of it and of course in a way I was a victim to it but you know there are ways in which you in the worst positions redeem yourself you know sometimes I think that the only liberty that one has is to formulate his own disaster with his own words it's a small liberty maybe it's very pathetic but it's a liberty because if you if you are able to do it suddenly you have some room to maneuver you are a little liberated not much but what what else can we ask for in such situation poor Paolo now we have to translate all that when I write a book I write a book I have always a desire to write it in a way that is for me that is that I that it would surprise me and that in a way I bring in a way in that place where I would not otherwise go and and I have a and this book they have really helped me to do this even more in this sense that I have I just have the feeling that it was a libro diverso, che infrangesse le regole dei generi, che infrangesse le regole del ritmo ed era proprio la situazione nella quale mi sono trovato quando ho deciso di scriverlo, cioè una situazione dove le regole non esistevano più, erano infrante, dove non esisteva più l'ordine delle cose e in una situazione come questa gradualmente ho trovato uno stile, ho trovato questo stile un po' poetico e forse a volte anche un pochino più che semplicemente un po' poetico che invece è anche uno stile a volte da commedia radiofonica oppure che è pura prosa e molte cose tutte messe insieme e se mi rivolgo indietro ora a pensare a come l'ho scritto è come se io fossi stato rapito, è come se proprio senza neanche pensarci l'idea di scrivere questo libro era un'idea che mi suscitava un movimento perpetuo, io è come se avessi avuto la necessità di dovermi muovere continuamente senza fermarmi di fronte a questa cosa che invece mi voleva paralizzare, mi voleva fossilizzare. Allora ho scritto un libro di questo genere che mi permettesse di non essere passivo, di non essere io a dovermi spaccare la testa di fronte a un evento come questo, di non essere vittimizzato, certo in un modo o nell'altro sono stato vittima di quello che è successo, ma poi ho scoperto piano piano che ci sono modi in cui anche se ti ritrovi nella posizione peggiore del mondo riesci a autoredimerti e a volte l'unica libertà che ti rimane di fronte a un disastro come questo è proprio la possibilità di trovare le tue parole per descrivere questa situazione, magari è una giustificazione un po' patetica, però c'è, è questo. Improvvisamente è come se tu ti rendessi conto che c'è uno spazio di manovra e questo spazio di manovra ti libera, ti fa sentire un pochino più liberato. Avete sentito questo tema del movimento? L'uomo che abbiamo trovato immobile, addirittura a un certo punto spalle al muro nella propria stanza, nella propria cucina, diventa l'uomo che cammina. Tra parentesi, l'uomo che corre era un racconto, diciamo, giovanile, non perché adesso non sia... Ma sono uno dei primi racconti di David Grossman che ci è capitato di leggere in Italia. Questo tema del movimento è fortemente contrapposto nel libro al tema invece dello stare. Ci sono altri personaggi nel libro che condividono lo stesso dramma, la stessa tragedia di quest'uomo e di questa donna e come loro due ognuno ha elaborato il proprio dolore, il proprio lutto in un modo inedito, in un modo assolutamente personale. Involto in una rete, inchiodato o addirittura trasformato in uno strano animale mitologico, una specie di centauro legato alla sua scrivania. Io vorrei che David ci raccontasse un po' questa opposizione tra lo stare, o meglio tra l'essere immobili, perché lo stare, lo vedremo tra poco, ha la sua importanza in questa storia, il saper stare in un posto, tra l'essere immobili e il fatto di muoversi. Anche perché, questo l'ha raccontato tante volte, però ogni volta che lo racconta è sorprendente, e anche si può dire divertente, credo, il movimento che compie l'uomo, una serie di movimenti circolari attorno alla propria casa, attorno alla propria città, a fine raggiungere, è esattamente il principio creativo che Grossman segue quando ha l'idea di un nuovo libro, giusto? Io non posso scrivere mentre sento. e io walko in my room, infortunatamente, quando è in un'idea, io posso walka outside, e ho alcuni places che posso walkare senza essere randata, o persone, e io starto, io ho un'idea, io sento a scrivere, e lo next thing I know, I find myself walking. E I think I walk something like, I guess, between 15 or 20 km per day in a room. You know, my wife says that I'm leaving marks of burn on the carpet, that I walk like a prisoner. Why is it like that? I don't know. I need it. I just need the physical feeling of it. But also in my life, I travel a lot. I follow my books and I travel a lot. And I also love it because, you know, whenever you travel, you are out of context. Even if you take yourself with you and all your complexes and all your limitations, yet you are out of context. And you are surprised all the time. You see every moment, you see something that you didn't know before and you didn't even imagine before. And I love it because suddenly there is like, you know, such a wealth, a stream, a river of ideas. I see new faces, faces I'm not used to. I hear anecdotes from biographies that I never have imagined. So all of this is a trip, is a journey. And you are right. In all of my books, I think, almost in all of them, there is this journey. And again, I think it is this basic need not to be imprisoned in one definition. I don't want to be defined in one definition because I think it's such an insult. And we are humans, we are so complicated, so multilayered. And trips give us this sensation of being able to escape every definition. being able to escape every video. Well, I don't feel it to come when I chat as a home where I can get from the room. I run in giro in the room into the room, absolutely in œuf, if I'm out of the room, I run from the room and weil where I can't get investment from the auto or there are people who interferis with this walk-out. L'idea di sedermi e di scrivere mi fa automaticamente non so perché alzare in piedi e camminare. Riesco addirittura a fare dai 15 ai 20 km per giorno dentro una unica stanza. Mia moglie dice che io brucio i tappeti e che cammino come fanno i carcerati. Il perché non lo so, forse anche perché mi capita di viaggiare tanto proprio per promuovere i miei libri quando viaggio per loro e con loro. Quando uno viaggia alla fine si ritrova sempre ad essere un po' fuori dal seminato, dalle cose che conosce e quindi quando cominci un viaggio è come se portassi te stesso tutti i tuoi complessi, i tuoi limiti con te. Però che cambiando ambiente, cambiando contesto in un modo o nell'altro vieni preso da invece quello che è sorprendente perché io mi sorprendo in ogni istante quando viaggio perché vedo cose che non avevo mai visto prima, perché mi capita di immaginarmi altre che non mi ero mai immaginato prima. E io adoro veramente tantissimo essere esposto a questo patrimonio, a questa messe, a questo flusso di idee, visi nuovi, aneddoti di biografie che non mi immaginavo potessero accadere e che non avevo mai sentito nella vita. Insomma mi sento come uno a cui sia stato riservato un trattamento speciale. Per me il viaggio è una cosa, e hai ragione nel dirlo, è una cosa molto importante, è una cosa che c'è in tutti i miei libri. Forse anche perché non voglio sentirmi imprigionato in una definizione. Non mi sta bene che io venga definito in modo univoco, con un'unica definizione, lo ritengo un insulto. E anche perché io credo che noi, da esseri umani, siamo estremamente complessi, siamo fatti di tutta una serie di strati, sovrapposti, e quindi questo tipo di trucchi aiutano. Io credo che tutti, dopo una certa agea, siamo congiati. Abbiamo diventato molto limitato, c'è solo una storia di vita per noi, e una sensazione di humor, e normalmente una lingua, excepto Paolo, che parla ogni lingua del mondo. Ma abbiamo diventato, e abbiamo sentito, e abbiamo sentito la più age. E io credo che scrittura mi permette di molte opzioni, e di massaggiare questo semplice, che ho avuto. E poi vedo che posso essere tantissime altre persone che non ho pensato di essere, che posso essere. E è un'ottima esperienza, poterciare, 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 poterciare. e non ha bisogno di essere la più sfissilata, poterciare, poterciare, poterciare la più semplice. Se ci sono un'ottima esperienza, poterciare, 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 poterciare in strada, poterciare, poterciare, poterciare in modo in cui si poterciare. il mondo, you will discover a whole world and you understand that there is no human being who is trivial or simple. This is really a great gift that writing gave me. Beh, io anche perché forse dopo sapete dopo una certa età, insomma, capita un po' a tutti, no, di così trovare dei limiti, essere un po' limitati, seguire quella che pensi sia un'unica storia della tua vita oppure, insomma, stare lungo i confini di un unico senso dell'umorismo o magari parlare semplicemente un'unica lingua, eccezione fatta, secondo lui, per me, che so tutte le lingue del mondo ma non è vero. E comunque scrivere è come un atto, una cucitura dove tu prendi e cuci, ricuci tutte quelle possibilità che ti erano state date ed è un po' come se tu ti concedessi il lusso di un dolce massaggio su quello che sei e su quelli che sono i tuoi limiti ed è anche un po' come riuscire ad entrare nei sogni degli altri non con violenza ma così piano piano cercare questa cosa meravigliosa che è riuscire a capire da dentro un altro essere umano quello che c'è dentro un altro essere umano e questo può capitare con tutti non è necessario prendere in considerazione una personalità molto raffinata basta una persona semplice basta osservare un passante basta vedere qualcuno che sta aspettando un autobus ecco se ti permetti questo di essere invaso da questa sua personalità anche della persona più semplice e se ti permetti di capire come questa persona questo lui o questa lei possano toccare il mondo ecco allora secondo me capisci che non c'è più nulla di scontato più nulla di sciocco io questo ritengo che sia un grande dono in questa indagine esplorazione dell'altro penso che ve ne sarete accorti anche dall'interpretazione davvero magnifica di Irene c'è una capacità di David Grossman di raccontare non solo il mondo femminile ma la maternità io so che tante lettrici quando leggono i suoi libri dicono ma questo come ha fatto cioè chi gliel'ha detta queste cose perché sono segreti inespressi addirittura inconfessati all'interno di se stessi e questa che sembra una storia di un padre che cammina è anche la storia di una madre che aspetta in realtà ma aspetta in un modo estremamente attivo estremamente così come questo camminare aspettare era la caratteristica ricorderete di ora la protagonista del cerbiatto lo chiama il cerbiatto quindi anche io proprio la vita lo chiamo il cerbiatto io volevo chiedere in chiusura cattiva notizia che stiamo chiudendo in chiusura volevo chiedere Davide di dirci qualcosa di questo suo cioè non come ha fatto a sapere i segreti perché sono cose di bottega di ogni scrittore non vogliamo però dell'importanza che hanno nei suoi libri specie nei libri degli ultimi anni si potrebbe dire questo sguardo femminile yes a femminile sight high sight or inner sight I think that only when I when my daughter was born only then I really started to understand women seeing her growing seeing her developing seeing the differences between her and her two brothers suddenly this world was open to me I like to write about women as I like to write about any other other that I am not that I will not be and as I said every other intrigues me myself I know enough I have enough of myself believe me but others are fascinating and of course to write from a point of view of a woman and to spend five years when I wrote the Cerbiato it was more than five years and everything that happened to me and I mean everything I thought of it also from the point of view of Aura and sometimes before I experienced it I think I conveyed it through Aura and I wanted to understand how she would have acted had she been in such situation and what will be her nuances and her emphasis in every situation and she is very different from me but this was the exact place of the pleasure there were two places the places where she was totally different from me and the places where I was very similar to her and again you know life makes us so limited we give up on so many options that we have none of us is only men or only women by the way none of us is only old person or a child and if you want to go to another sphere none of us is only Israeli or only Palestinian if we allow ourselves really to be with capital B we might feel the whole sequence that leads from this to this and from a man to a woman there is a flow there is all the time ongoing flow between all our options if only we allow ourselves to be with them if we are not afraid of them if we are not all the time very busy to define ourselves against others but we just understand wow we can be a combination of some others and again my way is writing everyone can do it in his or her way beh io penso di essermi reso conto che cosa significa essere una donna solo quando nacque mia figlia allora sì mi è capitato proprio di capire o di pensare di avere capito le donne osservarla crescere osservarla proprio svilupparsi via via e soprattutto osservare le differenze fra lei e fra i suoi due fratelli Ecco, lei devo dire mi ha proprio aperto di fronte agli occhi un mondo completamente nuovo da esplorare. Io ho amato tantissimo questa cosa come amo, d'altronde moltissimo le donne, principalmente perché sono altro rispetto a me, sono qualcosa che io non sono e neanche sarò. E poi anche perché questo gioco di descrivere l'alterità a chiunque e altro è una cosa che mi intriga tantissimo, perché insomma a furia di guardarmi dentro, di parlare di me eccetera, io penso proprio di conoscermi abbastanza, credetemi, quindi mi interessa decisamente molto di più conoscere appunto l'altro, conoscere il prossimo e in questo caso la donna. E nello scrivere il cerbiatto, e mi ci sono voluti cinque anni, credetemi ecco per tutti questi cinque anni qualsiasi cosa mi fosse successa, accaduta, io avessi fatto ma proprio tutto, l'ho pensato da donna, l'ho pensato anche come se fossi ora appunto il personaggio principale. E ho cercato di sperimentare ogni singola situazione come se ora proprio fossi io, come se qualsiasi tipo di situazione, qualsiasi piccola nuance, qualsiasi piccolissima enfasi potessi provarle come lei. E lì ho trovato delle diversità, ho trovato prima di tutto il grande piacere di trovarmi in un altro luogo. E poi ho trovato anche il grande piacere di appunto scoprirne le diversità, ma anche le analogie che io avevo con lei. Perché vedete, mi sembra proprio di dover fare questa considerazione, la vita ce la limitiamo così tanto noi stessi, perché rinunciamo sempre a un sacco di possibilità, perché insomma non dico nulla di nuovo dicendo che nessuno è al 100% uomo, nessuno è al 100% donna, così nessuno è mai sempre al 100% solo vecchio, solo bimbo e se vogliamo portarla su un altro piano, nessuno è mai al 100% israeliano o al 100% palestinese. Ecco, se noi solo ci permettessimo di essere, con la E maiuscola, beh allora probabilmente capiremmo che c'è un flusso, c'è un flusso inarrestabile che passa tra l'uomo e la donna e viceversa, che passa tra il qui e il là. E davvero se dovessimo e potessimo fare attenzione appieno a questo flusso saremmo, senza esserne sconvolti o spaventati, riusciremo davvero a essere, senza affollarci e affannarci troppo, a doverci sempre definire rispetto agli altri. Ecco, se capissimo che siamo una combinazione di altro forse sarebbe tutto più facile.